Alessandro Del Piero è stato uno dei più grandi calciatori italiani, ma è stato soprattutto probabilmente il più grande giocatore della Juventus di tutti i tempi. Credo che la sua storia immessa alla Juve si possa sintetizzare in sette passaggi chiave, che voglio commentare in modo sintetico, ma per far capire che la grandezza di ogni fuoriclasse passa sempre per alcuni momenti tipici, non è mai un qualcosa di lineare. Soprattutto le carriere dei grandi campioni passano sempre attraverso dei momenti di svolta anche difficili. Ed è quello che vedremo con Alessandro Del Piero. Prima di cominciare il video ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere mi piace ed eventualmente commentare con la tua opinione. Grazie mille. Allora, Alex Del Piero. Intanto io ho una premessa che per onestà intellettuale voglio fare. A mio parere, Alessandro Del Piero non è stato il calciatore più grande della Juventus, ma per quanto mi riguarda. Io ho amato molto di più Michel Platini, però io resto convinto del fatto che nel calcio si possono avere tante opinioni, ma poi sono i numeri a parlare e i numeri di Del Piero sono inequivocabili. Del Piero è il giocatore che nella Juve vanta il maggior numero di reti realizzate e anche il maggior numero di presenze. Quindi io posso avere la mia opinione, ma io sono soltanto Emiliano. Lui è Alex Del Piero, che i numeri dicono essere stato il calciatore più grande della Juve. E quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente accettare e riconoscere. Ma quali sono stati, secondo me, i sette passaggi chiave? Sono per lo più dei gol, ok? Che hanno segnato a volte l'ascesa, a volte la rinascita dopo una caduta, o a volte hanno certificato. Il primo è il gol contro la Fiorentina, il 4 dicembre del 1994. Quel gol, quella partita, richiamano alla mente di chi era già al mondo in quegli anni qualcosa di simile a una finale dei mondiali, o a delle grandi tragedie come le Torri Gemelle. Nel senso che ciascuno di noi si ricorda dove era e che cosa stava facendo proprio in quell'esatto momento. E io è meglio che non vi dica cosa stessi facendo. La Juve va sotto di due reti e sembra la fine della corsa allo scudetto. Ricordiamo, alla Juve è appena arrivato Marcello Lippi. La squadra non convince ancora e si arriva da anni in cui il Milan vinceva, il Parma sembrava prossimo a vincere e la Juve non essere ancora all'altezza. Il Parma era già avanti in classifica rispetto alla Juve e con quel 2-0 in casa contro l'ottima Fiorentina, per la Juve, nonostante si fosse soltanto al 4 dicembre, significava dire addio ai sogni di scudetto. Ma prima l'immenso e indimenticabile campione Gianluca Vialli fa due reti ravvicinate al 73esimo e al 76esimo con il quale la Juve raggiunge il pareggio. Ma anche il pareggio a quel punto sta stretto. Vi invito a guardare le immagini di quella partita perché c'era dentro tutta la cattiveria agonistica di quella squadra, che era veramente una squadra fortissima non solo da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista caratteriale. A quel punto assist di Orlando, giocatore un po' meteora nella Juventus ma dotato di grandissime caratteristiche. Un lancio molto lungo che arriva ad Alex Del Piero, allora giovanissimo, 19 anni, che fa una magia, fa un gol, un tiro al volo di destro che è qualcosa che è rimasto agli annali perché davvero è stata una rete meravigliosa. Lì il mondo scopre Alex Del Piero e sarà soltanto l'inizio di una carriera incredibile. La seconda svolta avviene contro il River Plate. Anche lì io mi ricordo benissimo, andavo all'università, sono tornato a casa in fretta e furia per poter guardare la partita che era a grosso modo all'orario di pranzo per il fuso orario rispetto a Tokyo. Una partita in che la Juve stava dominando ma non riusciva a concretizzare. Il gol non voleva proprio arrivare. A un certo punto c'è un calcio d'angolo, siamo al 26 novembre 1996. La Juve aveva già conquistato la Champions League, la vittoria in Champions League. E attenzione, è stato molto importante quel trofeo perché 26 anni dopo è ancora oggi l'ultimo trofeo internazionale vinto dalla Juventus fuori appunto dai confini nazionali. E il River Plate era una squadra molto forte con alcuni giocatori che poi negli anni sarebbero diventati molto forti come Francescoli, come Cruz, come Salas, come Ortega, come Ayala. Bene, all'ottantunesimo, calcio d'angolo, la palla arriva ad Alex Del Piero che fa una delle sue magie. La caratteristica incredibile di Alex Del Piero è che non soltanto i suoi gol, i suoi momenti di svolta, i suoi momenti clou sono stati rappresentati da dei gol importanti, ma sono anche dei gol di fattura pregevole. Questa è una caratteristica davvero unica di Alex Del Piero. Terza svolta per la Juve. L'8 novembre 1998 Alex Del Piero si infortunia in modo davvero grave. Fa per rincorrere una palla che stava andando verso il fallo, verso la rimessa dal fondo, mette male il ginocchio e si spacca in modo davvero grave. Dopo quell'infortunio Del Piero non sarà più lo stesso e questo lo ammettono tutti. È stato comunque grandissimo e la sua grande forza è stata quella di essere riuscito a ritornare grandissimo nonostante da un punto di vista fisico non fosse più quello pre-infortunio. Del Piero è ancora molto giovane, aveva 23 anni, 24 anni, ok? È stato assente in nove mesi, ma anche se poi è rientrato, anche se poi ha ripreso a giocare bene, tutto, però non è mai riuscito a tornare, almeno in quei lunghi mesi, quello di un tempo. Ma il 18 febbraio del 2001 accade qualcosa di straordinario. Il primo sostenitore e fan di Alex Del Piero era il papà, che purtroppo era morto sei giorni prima di quella partita che la Juve gioca a Bari, al San Nicola di Bari. E Del Piero parte dalla panchina, titolare è Darko Kovacevic. Questo fa capire come un giocatore così immenso, così grande, nonostante tutto, si stesse un po' perdendo. Alex entra dalla panchina e realizza un gol splendido. E quindi, a 18 mesi dall'infortunio, Alex Del Piero è tornato. Un altro gol che rappresenta un momento topico nella carriera di Alex Del Piero alla Juventus accade il 26 gennaio del 2003, quindi 20 anni fa. La Juve batte il Piacenza allo stadio delle Alpi grazie ai gol di Del Piero e Nedved. Una vittoria che arviene senza grossi problemi per la Juve, che tra l'altro è lanciatissima verso lo Scudetto. Il gol di Del Piero è molto bello. Ricorda quasi il gol famosissimo che realizzò contro la Fiorentina nel 94. Ma questo fu un gol davvero speciale, perché pochi giorni prima, due giorni prima esattamente, era morto l'avvocato Agnelli. A Torino in quei giorni c'era, io lo ricordo benissimo, c'era un'atmosfera davvero strana. Come se fosse morto, ma non voglio usare dei termini sbagliati, il papà di Torino, il grande protettore della città di Torino. Chi è di Torino, come me lo sa, chi è di Torino e ha vissuto quei giorni, capisce che c'era nell'aria veramente una sensazione strana. Era morto l'avvocato Agnelli. E Del Piero fece un grandissimo gol e lo dedicò all'avvocato Agnelli. E poi, anche se noi Juventini abbiamo con la Nazionale un rapporto che si è incrinato nel corso degli ultimi anni, come possiamo dimenticare la rete del 2-0 che Del Piero siglò nella semifinale dei mondiali del 2006? Ve lo ricordate? Caressa il famoso Cannavaro. E poi la palla arriva a Totti. Che Cannavaro! Alza la testa, vede Gilardino libero, la passa Gilardino, Gilardino arriva verso l'area tedesca. Non aveva grandi possibilità, ma vede con la coda dell'occhio arrivare Del Piero che fa una, anche qui, una rete semplice ma meravigliosa. Un tocco alla Del Piero che manda l'Italia in finale. E soprattutto spegne i sogni della Germania, una Germania fortissima che giocava in casa, che quindi era strafavorita per la vittoria finale. L'Italia va in finale, poi ci ricordiamo benissimo che fu proprio l'Italia a trionfare, a vincere il suo quarto mondiale. Ebbene, per Del Piero fu un gol pazzesco perché erano anni in cui l'internazionalità, la fama internazionale di Del Piero forse si era un po' assopita. Anche in quella squadra, pur guidata da uno che Del Piero lo conosce bene, lo conosceva bene come Marcello Lippi, Del Piero non era titolare in quella nazionale. Eppure mise la sua firma anche nel mondiale. Ma arriviamo alla parte finale della carriera di Alex Del Piero. Nel 2006, come sappiamo bene noi tifosi da Juve, la Juve veniva spedita in Serie B. Del Piero era un giocatore con una fama internazionale assurda e sarebbe potuto andare a giocare ovunque. Lui, come tutti gli altri giocatori di quella fantastica Juve. Eppure alcuni restarono, alcuni campioni del mondo restarono. Restò Del Piero, restò Gigi Buffon, restò Mauro Camoranesi, Pavel Nedved. Altri, lo sappiamo bene, scapparono a gambe levate, ma è inutile aprire nuove parentesi. E la Juve gioca la Serie B, vince la Serie B, torna in Serie A, riconquista la Champions League, va al Bernabeu il 5 novembre del 2008. Del Piero è il capitano, ma quella è una Juve che ancora non si è ripresa, non è ancora una grande squadra. Eppure va a Madrid, allenata da Ranieri, e vince 2-0. Vincere 2-0 al Bernabeu è una cosa molto rara. Del Piero fa un gol, il primo, fantastico, anche qui alla sua maniera. E poi suggella una prestazione perfetta con un gol su punizione. A quel punto, dopo un po' di minuti e dopo aver sfiorato un altro gol bellissimo, Del Piero viene sostituito con De Ceglie. E il Bernabeu, dopo pochi istanti, si alza in piedi e tributa una standing ovation per Alessandro Del Piero. Avere la standing ovation al Bernabeu è una medaglia, vale quasi come un trofeo. E Del Piero ha conquistato anche questo trofeo. E arriviamo nel 2012. Alessandro Del Piero non si sentiva pronto a lasciare il calcio, non si sentiva pronto a lasciare la Juventus. Ma Andrea Agnelli decise che la storia di Del Piero alla Juve si era conclusa. Lo dichiarò in un modo che ha fatto molto discutere e probabilmente col senno di poi anche sbagliando in modo pubblico durante un'assemblea pubblica già a ottobre. La Juve è al primo anno di Antonio Conte. È una squadra che si avvia verso lo Scudetto. Uno Scudetto fantastico perché era il trentesimo Scudetto, perché era il primo post-calciopoli. C'era davvero, io lo ricordo, uno degli Scudetti più belli. Penso il più bello insieme a quello del 5 maggio, a quello appunto già citato del 94-95. Ebbene, Alex Del Piero gioca la sua ultima partita in casa, nel suo stadio. La Juve affronta l'Atalanta. La partita è quasi inutile. Tutti sanno però che è l'ultima partita in casa di Alex Del Piero. E Del Piero che cosa fa? Fa pure gol. Quindi nella sua partita di addio, Del Piero fa un gol tra l'altro anche molto bello. Un gol suo, dei suoi, al Del Piero. Al dodicesimo del secondo tempo, Del Piero viene sostituito da Pepe. E a quel punto accade una cosa magica, perché la partita praticamente finisce. Finisce perché lo stadio non guarda più cosa accade in campo, ma guarda cosa accade a bordo campo. Dove Alex Del Piero si alza in piedi e saluta il suo pubblico in quello che è un lungo abbraccio. Ci sono persone che piangono. I giocatori della Juve non riescono quasi più a giocare. Ma neanche i giocatori dell'Atalante, che pur avrebbero tutto l'interesse di andare avanti e cercare di ribaltare il risultato, in realtà non erano quasi più dentro la partita, perché si stava celebrando l'addio di un grande campione. 40.000 persone commosse, tanta gente in lacrime e milioni di persone da casa. A quel punto Del Piero e la Juve si separano. E da quel giorno inizia una storia diversa, perché quella tra la Juventus e Alex Del Piero è una storia d'amore che non si è mai appassita, che però non si riesce più a concretizzare. Come in quei film in cui due persone che si sono tanto amate si vede che vorrebbero tanto tornare insieme, ma non trovano mai il modo per concretizzare nuovamente quest'unione. E chissà se e quando Del Piero tornerà alla Juve come tutti i giuventini desiderano. Perché in fondo Del Piero e la Juve si può dire che siano la stessa cosa. Tutti noi tifosi speriamo in un ritorno di Alex Del Piero, chissà se questa cosa accadrà. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi del video, se hai dei ricordi particolari che legano la tua memoria di tifoso ad Alex Del Piero. E poi ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao!